Bentornati sul canale di giornalismo del Cuore Italia 1. Le ultime notizie di oggi like Delia e Davide si confrontano sulle nomination della serata e l'attrice si complimenta con il VIP per il traguardo raggiunto Nel corso di questa puntata, a differenza delle scorse volte, i VIP hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio voto direttamente in confessionale, lontano dagli sguardi dei propri coinquilini Nella casa di Cancelletto GFWi Pitero, si sa, a mancare non è di certo la curiosità Io ho dovuto nominare Baru con Fossa Delia spiegando che, in quella circostanza, non si sentiva di dare il suo voto alle altre donne della casa, nonostante tutto, voglio dare loro una possibilità a ferma, sperando di ricevere informazioni anche da parte del suo coinquilino Al contrario, però, Davide non se la sente di rendere noto il suo voto, il mio voto lo tengo segreto I due proseguono il loro discorso delle nomination, non capisco la nomination data su lei esclama Davide il quale pare abbia dei dubbi sull'onestà dei suoi coinquilini Delia confessa che, a prescindere da tutto, è felice che a vincere sia stato lui, tu dato tanto a livello artistico Lei ha dato qualcosa? E aggiunge tu e Manila siete stati perfetti, mostrando tutta la sua ammirazione nei loro confronti Questi complimenti non lasciano di certo infierente il VIP, questo è il regalo più bello conclude infatti Davide, soddisfatto per l'esito del televoto Flash Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video